Teremoto, nuova scossa di magnitudo 4.4 ad Arquata, altri crolli nella scuola di Amatrice, il Papa presso nei luoghi del dramma, il bilancio sale a 290 morti, si temono almeno 10 dispersi, oltre 2000 le repliche. Sisma nel centro Italia, ipotesi Errani, commissario di ricostruzione del rio, prima superare l'inverno, il ministro se ne parla dopo la fase emergenziale. Teremoto, le inchieste puntano su materiali e procedure, due le indagini, una a Rieti ed una ad Ascoli Piceno. Le inchieste entreranno nel vivo dopo l'identificazione delle vittime. Bruxelles, bomba all'istituto di criminologia, un'auto sfonda le barriere, infiamme i laboratori. Libia, battaglia finale per Sirte, mille soldati lealisti lanciano l'offensiva contro l'Isis. Brexit, Theresa May, accelera, la Premier vuole da ciascun di Castero roadmap per l'uscita dall'Unione Europea. Il nostro sosp Bew gre� protecüssel, Claude, innanzisательно di Caterale Il nostro, www.ilium.org, la Cenos della C savoir Schengen.